Io invece volevo cambiare con me Sì, nessun problema Volevo parlare del festival di Rimini dove c'è stata la presenza di Marco G Con un buon articolo, cioè tutto il suo intervento è apparso sulla Repubblica Però parlo dopo No, perché dopo? Prima, perché c'è una cosa, una chicca Va bene Ho una chicca, Francesco Scusami, questa è una cosa che non può, ma ci sono andato per dopo L'ultimo canto di Saffo Ah sì, non ce l'ho dietro per dopo l'Italia Dunque, allora è stato scoperto praticamente a Colonia L'università di Colonia Quello che è considerato forse uno dei pezzi anche abbastanza completi delle poesie di Saffo Vi ricordo che le poesie di Saffo ci sono rimaste circa 200 frammenti, piccoli frammenti E credo 3 o 4 poesie abbastanza complete Per cui non abbiamo molta idea di quella che è la complessità e la completezza della poesia di Saffo Ricordiamo comunque Saffo era praticamente la direttrice del centro in cui si organizzava la vita Cioè si organizzava la vita femminile Per cui era un personaggio fondamentale, diciamo, allo stesso livello dell'accademia di Platone E vi ricordo che sia Platone che Socrate aveva un'ammirazione notevole per questa Saffo Questa poesia di Saffo dov'è che viene trovata? Viene trovata scritta sulle bende di una mummia egiziana In pratica cos'è successo? No, su un papiro che copriva le bende di una mummia egiziana Cos'è successo? Siccome la carta, i papiri dovevano essere riciclati E questo era sicuramente, probabilmente uno dei papiri usati nelle scuole per delle esercitazioni Siccome allora le scuole esistevano, dopo i cristiani le hanno saccheggiate C'è rimasto questo pezzo, questo frammento su questo papiro E io vi leggo questa poesia di Saffo, questo componimento tradotto in italiano Che la Repubblica ci romanda E il pezzo si intitola L'eterna vecchiaia Per voi i profumati e fioriti i doni delle suavi muse Siate solleciti o fanciulle E la chiara lira melodiosa Ma il mio un tempo tenero corpo ora è vecchio Si è arrestato I miei capelli si sono mutati in bianchi Laddove erano scuri Il mio cuore è cresciuto pesante Le mie ginocchia non mi sostengono Loro che una volta erano agili per la danza come quelle dei cerbiati Questa condizione io spesso lamento Ma che fare? Per un essere umano non c'è modo di non invecchiare Una volta Titone racconta leggenda di Aurora armata di Rosa Follemente innamorato sfuggì alla fine del mondo Bello e giovane Allora tuttavia nel tempo dell'età grigia fu preso Lui sposo di una moglie immortale E questo è ciò che l'antico ci ha lasciato C'è questa grandissima poeta Molto offesa Molto vituperata da parte dei cristiani Sì dei primi cristiani degli altri Che odiavano quella che è l'intelligenza femminile Purtroppo ricordiamo che il cristianesimo è una manifestazione di omosessualità repressa Purtroppo è di una violenza spaventosa Specialmente contro le donne che le trova delle concorrenti Ma sai forse il cristianesimo è una rappresentazione di una forma di autocastrazione dell'uomo Sì No sai prima parlando No ti spiego perché Non sappiamo Stiamo andando via Non sappiamo cosa No no è un Sai Lo riconnetto con un discorso del suo sacrificio Che visto tu hai affrontato il sacrificio e il discorso nell'ambito indiano E c'è stato qualcuno che ha fatto uno studio sul discorso dei sacrifici indiani Rappresentando che c'era una notevole differenza tra quelli cristiani E ha fatto un paragone ben significativo con quello che è il sacrificio fondante del cristianesimo Che è Abramo che decide di uccidere Isacco Dice è significativo perché C'è Tutta la drammaticità del cristianesimo è rappresata proprio in questa scena Cioè che poi sia esistente o non esistente Sappiamo che poi sono tutte quante le invenzioni Ma purtroppo sono i cristiani che accadono per vera Noi le chiediamo per buona e le apprendiamo per vera Quando l'hanno elaborata L'hanno elaborata in funzione di farla passare vera è come esempio da imitare Anche se pur essendo falsa fanno tutto per farla diventare vera Cioè di conseguenza hanno creato un'immagine falsa che è diventata una pratica vera Ok Allora io sostengo questo Che hanno inventato questa pratica Per usarla ad esempio delle persone Cioè tutti i padri pur di sottomettersi a Dio Devono essere disposti a sacrificare i loro figli Per cui è micidiale la cosa Sì ma tra l'altro Va bene l'hanno usato come storia Però l'hanno poi tradotta nelle parole, nei fatti in concreto Cioè nel caso della pedofilia è un concreto Però è significativa perché questa analisi di questo sacrificio diceva chiaramente Abbiamo un padre Che qualsiasi padre che gli dicono ammazzato un figlio Avrebbe un po' di cuore, un po' di sentimento, un po' di anima Cioè sarebbe una plassi normalissima Sarebbe immaginabile questo Eppure è totalmente freddo Impassibile per dire al figlio partiamo e andiamo Il figlio gli dice Ma padre dov'è l'agnello per il sacrificio? E lui dice Lo troveremo lì, provvederemo dopo, Dio provvederà E se rendete conto che neanche il figlio è capace di comprendere l'animo del padre Cioè quale distacco rappresenta, quale separazione La capacità di mimetismo di nascondere la vera intenzione di fronte a un figlio Cioè tu parti con l'intenzione di uccidere il tuo figlio E sei capace di nascondere questo sentimento Pensate alla malvagità che richiede nel cuore di un cristiano Di arrivare all'assimilazione Guarda che questo è una plassi normale per un cristiano Sì sì ma di fatto io parlo di malvagità, di cattiveria che insita Io non l'ho portato l'articolo, non l'ho stampato da un giornale online E' stato condannato a 8 anni di reclusione un prete in Francia l'altro giorno Il quale faceva il missionario in Senegal per i buoni bambini Per aiutare i bambini Faceva propaganda perché non siano bambini soldati Ne aveva violentati 8 o 9 Beh aggiungiamo il vescovo di Bolzano Che si rifiuterà di testimoniare con un prete pedofili Appellandosi al diritto alla libertà di religione Cioè i ragazzi sono solo bestiami da stuprare Da uccidere, da massacrare, da mettere in ginocchio Da offendere Cioè hanno un disprezzo per la società civile Che nasce proprio da Abramo Cioè è l'atteggiamento che viene venduto Proseguiamo nel racconto Questa domanda che dice il figlio fa Ma dov'è l'anieno per il sacrificio? Cioè significa che si va a sacrificare un essere che è all'inizio della sua vita Se arriva il momento appunto del sacrificio In cui non dimostra dubbio alcuno Viene fermato Però il sacrificio deve essere compiuto lo stesso A quel punto si scopre che è imprigionato di vicino C'è un montone E viene sacrificato il montone Ma dal punto di vista simbolico, psicoanalitico È significativo che non si sacrifica più l'agnello Ma si sacrifica la capacità riproduttiva dell'uomo Perché il montone è la classica manifestazione della potenza sessuale Poi anche della capacità di essere fecondo In quel momento, dicono, dal punto di vista simbolico Si chiude la possibilità dell'uomo di essere fecondo verso il mondo Di essere attento verso il mondo Sacrifica la sua sessualità, la sua potenza La sua forza E ne diventa completamente freddo E sceglie liberamente di farlo questo Di conseguenza che il sacrificio poi non sia dato come aveva chiesto Dio Ma che sacrifica quel montone significa che rinuncia anche al suo lato maschile Al lato della possibilità di essere padre E d'altronde era partito con una certa intenzione E alla fine non vengono ucciso soltanto uno ma vengono ucciso due persone Il rapporto tra padre e figlio E questo è un racconto Ma pensate anche questo Cioè l'animale, il montone che viene sacrificato al posto di Isacco È significativo Perché accettando la sottomissione a Dio Ha rinunciato alla sua forza Ha rinunciato alla sua abilità Alla sua capacità Alla sua volontà Ha tutto quello che lo poteva rendere forte Tu stai dicendo le cose non vere Francesco Perché Cacciari ti smentisce Cacciari dice Dio è amore La vera forza del verbo È l'assoluta priorità di amore e misericordia Vedi Cazzo ha detto Cacciari Semplicemente si è messo dalla parte del Dio padrone Che sgozza le persone che non si possono difendere E Cacciari considera questo sgozzare le persone che non si possono difendere Un atto d'amore Cioè Cacciari nella sua confusione in testa Ormai sappiamo, so benissimo dove è arrivato Che strada ha fatto Ormai si identifica con l'onnipotente E con la sindrome da onnipotenza E lui chiaramente chiama il Dio dei cristiani E Gesù, il pazzo di Nazareth Come un atto d'amore Mentre sgozza chi non si può difendere Ma è una questione di malattia mentale Cioè nella nostra storia, nella nostra vita Abbiamo delle trasformazioni Da un lato o dall'altro lato Non c'è problemi Sì, sì, beh Questa sai Se riconnette il fatto che lui sia sempre più cristiano Questo è un lato di fatto Infatti Non a caso Mentre stavo ascoltando Prima di arrivare qua Stavo ascoltando appunto Nella lezione magistralis di Cacciari Sulla traduzione sulla lingua E lui diceva che le lingue Hanno una volontà messianica di unità Mi sembra un po' forzare Che dice che in realtà Le lingue hanno il desiderio di diventare una Assolutamente vero Eppure l'ha affermato Cacciari Lo sono ascoltato Questa soluzione magistralmente Venivo giù oggi Ti dico Quando sento parlare di realtà messianica delle lingue Che si tengono all'unità Anche se poi non la applicano Non la mettono nel concreto Il desiderio loro sarebbe quello di diventare una Diciamo che c'è un desiderio Ma sarebbe insito Di poter comunicare con tutti gli uomini Ma non la lingua in se stessa E neanche l'appiattimento della lingua Anche perché le trasformazioni della lingua Sono molto lente Proprio perché la lingua è uno strumento Assolutamente inadeguato Sì ma una lingua non ha la volontà messianica di diventare una Di annientare se stessa Assolutamente Eppure sai Visto che tu parlavi di Cacciareppe Ma ne aggiungiamo qualcosa Ma io non è che ne parlo male Scusa Però uno che fa Uno che si spaccia di essere un filosofo E che fa una cagata del genere Conformendo quello che è l'uno di Plotino Con quello che è il macellaio di Sodoma e Gomorra Beh è come minimo da sputargli il muso Cioè effettivamente è vile, vigliacca, sporca la cosa Perché se capisco che la persona che va a catechismo Gli venga insegnato che il dio dei cristiani è l'uno di Plotino Questo io ho la visione degli stoici Questo io lo capisco e le persone possono essere ingannate Però da uno che mi insegna filosofia Che dice delle cagate del genere E da sputargli il muso Cioè vuol dire che la fa sporca Cioè no? Vuol dire Tu hai sbagliato, tu hai fatto Sì, allora Claudio Sembra che quello che noi diciamo di storia su certe Su nostra trasmissione Voi ci pensi io Sì, ci pensi tu Forse, vedi un po' se Allora Andando avanti un attimino Ho visto che è arrivato a trovarci una persona Allora Vieni, vieni, venire Vieni, vieni Niente Io ho visto che Francesco si è allontanato un attimo Io vi parlo un attimino del quel che c'è stato Il festival di Rimini dove ha partecipato anche Oshè Dice, c'è un articolo della Repubblica del 24 giugno 2005 E il assunto dice Una saggezza di tipo eroico Sto parlando del paganesimo greco Di tipo eroico Aveva ancorato la vita degli uomini al presente Senza proiezioni ideologiche sull'avvenire Si è andata formando una particolare cultura dell'immanenza Dove gli dèi appartengono allo stesso mondo degli uomini E vi leggo solo un pezzetto dell'intervento di Oshè Poi lascio a Francesco No, beh comunque no Oshè è sempre una storia Se io lo leggo tutto non finisco più Anche perché amico Oshè è uno studioso di paganesimi africani Che ha scoperto attraverso Vernant Il paganesimo greco E sta facendo la sintesi Però effettivamente qualche passetto deve ancora farlo Beh sì, beh logicamente sai E all'inizio Tanto di cappello è Oshè Assolutamente E questo miracolo greco Se accettiamo questa definizione per Vernant Si colloca accanto all'immaginazione Nel suo articolo intitolato Forme de croillance et rationalité angresse Egli fa notare che in Grecia Oggetto di fede è ciò che si racconta Allorché si raccontano i miti Tale narrazione in origine orale Assumerà forma scritta di tradizione epica Conomereo ed esiodo Il fulcro della fede E il fulcro della fantasia Non sono mai disgiunti Dunque Così si instaura uno sfasamento E affiora la possibilità di un gioco Fra fede e creazione letteraria Il requisito preliminare del gioco letterario Presa di distanza estetica Grado di libertà Riconoscimento dell'autore Al narratore All'ascoltatore Al lettore Apre uno spazio fra i vincoli del sistema simbolico E l'immaginario dell'individuo Si realizza così il requisito preliminare Allo sviluppo del pensiero filosofico E alla libertà intellettuale In rapporto alle cosmologie Il cerchio dell'immanenza è spezzato Allorché la mitologia Una volta messa in scena e recitata Appariva prima di tutto Come il collante del gruppo sociale E della città È il momento in cui il passaggio All'immaginazione All'immaginazione All'inflessione filosofica E alla storia Sposta completamente La questione della fede I greci credono Prima di tutto A loro stessi Ripeto I greci credono Prima di tutto A loro stessi Questa fede In loro stessi Si afferma anzitutto Per il fatto Che essi Escono dai miti del passato Senza produrre una visione scatologica Non è proprio vero E questo è una cosa Che ci scanneremo fra i ogi Un grande rappresentazione Del futuro Il momento della tragedia in Grecia Corrisponde a questa uscita Dal mito Eccetera In realtà Quello che sta accadendo È una riscoperta A tutto campo Di quello che è Le antiche tradizioni mitologiche Perché non sono d'accordo Con Ogè Sul discorso dell'escatologia Perché si tende a considerare L'escatologia Quasi esclusivamente Da punto di vista monotecico In realtà Noi sappiamo Che esisteva L'escatologia greca Soltanto che L'escatologia greca Non era quella Che gestiva Le azioni degli uomini Oggi Gli uomini oggi Facevano le loro azioni In funzione Di loro bisogni E proprio perché Mettevano in atto Le azioni In funzione Di loro bisogni Arrivavano Una certa relazione Scatologica Naturalmente Non serviva A parlare Di ciò che c'è Al di là L'importante Era arrivarci Al di là Era questo Che era importante Per i greci Quello che fosse dopo Era un aspetto secondario Voglio aggiungere una cosa Che è divertente Perché quando L'ho letta Sembrava Una frase che diciamo Spesso nella nostra trasmissione Quando parliamo Dell'antico Egitto Noi sappiamo Che questa era Una civiltà Fondamentale In cui un monoteismo Si è divertito A dipingere Come truculenta Violenta Di sopraffazione Sono Più pacifista Che mai si è esistita I libri di scuola E i film storici Sono riusciti A farci credere Che l'antico Egitto Fosse popolato Da turbi Di schiavi Costretti A costruire piramidi A suoni frustate Uno stereotipo Che difficilmente Potrà essere cancellato Anche se gli egittolici L'hanno ampiamente Messo in discussione Questo l'ha scritto Finalmente Il Corriere della Sera Già Geografica Sì ma sai Nelle varie ricorrenze Nelle varie ricordi Delle persecuzioni Della fuga dall'Egitto C'è sempre questa immagine Che è una storia Sai com'è nata la storia C'era un idiota Si chiama Erodoto E lui girava per il mondo E poi scriveva Quello che trovava Un giorno è andato in Egitto Ho visto queste piramidi Enormi Grandissime E' andato dai sacerdoti E gli ha detto Ma come avete fatto A vostro io E' immensa E' enorme Centomila schiavi Ci hanno lavorato Quarant'anni Erodoto Era stupido Perché se lui faceva Due conti Diceva Se ci voglio centomila schiavi Ci vogliono almeno Duecentocinquantamila soldati Che mi controllano Centomila schiavi Trecentocinquantamila persone Dov'è che le trovavano Da mantenere? Non si è posto la domanda Centomila schiavi E hanno lavorato per 40 anni A fare le piramidi Piano Allora aggiungiamo qualcosa di più Sulla schiavitù Allora L'antico Egitto Paradiso della classe operaia I lavoratori firmavano Un vero e proprio contratto Garantito dal faraone Oltre al salario Avevano il diritto ad abiti Sandri, lunghenti E cure sanitarie Da questi documenti Scopriamo una realtà Decisamente moderna Il lavoro degli operai Era regolamentato Da un vero e proprio contratto Garantito dal faraone I lavoratori erano organizzati In gruppi diretti Ciascuno da un capomastro Che tenevano un minuzione Non rendi conto Dell'andamento Di lavori E della gestione Del personale La cosa divertente Visto che siamo L'ultimo giorno Per pagare l'IC A proposito Mi raccomando Firmate per lo Stato L'8 per mille L'8 per mille Mi raccomando Firmate per la chiesa Viviano Domenici Parlando Di condizione degli operai Nell'antico Egitto La proprietà Dell'abilitazione Da parte degli operai Era favorita Da specifiche leggi E da una certa epoca In poi Gli operai Vennero esendati Dal pagamento Della tassa Sulla casa Visto che l'ultimo giorno Visto che siamo Sai Tiriamo l'antico Egitto L'attualità Essendo oggi Capita a proposito La cosa più divertente È che In realtà I dati c'erano Da una vita fa Per esempio Quel papiro pornografico Che è contenuto A A Museo di Torino Che non lo espongono Perché In realtà Quel papiro Non era altro Che il giornale pornografico Degli operai Che costruivano Le piramidi Sui massi Sui massi Dei piramidi Sono state trovate Tutta una serie Di iscrizioni Molto strane Che si riferivano A squadre di operai In concorrenza Con altre squadre Di operai Ora Per scrivere Occorreva Che gli operai Sapessero scrivere E inoltre Scrivere in concorrenza Uno o un altro Quando mai uno schiavo Cerca di fare più lavoro Di un altro Cioè Non è mai esistita Una cosa del genere Ma C'erano già I dati Per riuscire a capire Sì ma Voi che leggiamo Le motivazioni Per cui uno Poi si poteva Assentare dal lavoro Nell'antico Egitto Motivi di assenza Dal lavoro Che non pare Prevedesse Detrazione sul salario Potevano essere La malattia Il complesso della madre La lite Con la moglie E persino La malattia Dell'asino Con il quale L'operario Raggiungeva Il luogo di lavoro Io vorrei Che un contratto Di lavoro Prevedesse queste clause In realtà Nell'antico Egitto È pure un solito A fare le piramidi E che implica Che la visione Schiavistica Di sfruttamento Che viene data Dell'antichità È sempre stata legata Alla concezione Di rappresentare male Le popolazioni Che avevano Una civiltà potente A parte erodoto C'era poi La storia Della Bibbia Cioè quando Nel 600 Avanti Cristo Gli ebrei Si inventarono Il loro mito Si inventarono Ma no Si inventarono La loro favola Sì la favola C'è neanche Proprio La bugia Diciamo Praticamente Si inventarono Questo esodo Dall'Egitto Che doveva essere Il preludio Dell'esodo Da Babilonia Allora si inventarono Una schiavitù Però stranamente Misero all'interno Di questo racconto Quelli che erano Le condizioni di vita Che avevano A Babilonia Per cui Figurati Se Col concetto Che noi abbiamo Oggi Come oggi Dei schiavi Gli schiavi Potevano andare Dal vicino A cedere La sua casa Per farsi Un pagamento In oro Cioè col concetto Noi oggi Che abbiamo Dello schiavo Beh Nella Bibbia È scritto Tranquillamente Questo Per cui Chiaramente Il concetto Di schiavitù Come lo abbiamo Noi È il concetto Di schiavitù Dello schiavo Cioè lo schiavo Dice Se io fossi padrone Farei io Lo schiavo Come si dice Cioè io Farei vedere Questi schiavi Come si dice Invece Il concetto Di schiavitù Antico Era un po' Diver C'era chiaramente La schiavitù Anche A catena Specialmente In Roma Specialmente Per le miniere Specialmente In altre cose Ma era molto Secondaria Cioè non era Come avvenne dopo Per la schiavitù Americana Per la schiavitù Nel monoteismo Poi che aggiungiamo Altri due particolari L'operaio Cioè ci presentano sempre Il faraone Quasi quasi Io chiedo A rinnovo Contratuale In condizione D'antico Egitto L'operaio Che riteneva Di aver subito Una condanna ingiusta Da parte Dei suoi stessi Colleghi giudici Poteva appellarsi Alli scrivi Al capo Della polizia O direttamente Al faraone Per dire che Saghera Era un distante Dall'Ege Si era preso I corsi di Cassazione E noto Il caso Di un operaio A tessi Licenziata Per aver sbagliato Un lavoro Che si appellò Al capo Della polizia E venne rintagata Nel posto di lavoro Beh Noi ci abbiamo messo Due mila anni Per riuscire Proprio perché Non c'era la volontà Di dominio Perché Il fatto stesso Che era ammissibile Il ricorso Al faraone E si otteneva giustizia Proprio perché Cos'era un discorso fondamentale Leggevo ultimamente Uno studio Sulla giustizia Diceva Come mai Alcune cose Che possono avere Delle assonanze In realtà sono differenti E diceva Come mai Alcuni discorsi di Platone Che parlano della giustizia Possono avere Delle assonanze Con quelle cristiane In realtà C'è un discorso di base Che il soggetto Non ha il peccato originale Non è un peccatore Ma è una persona Di conseguenza Se anche le parole Possono sembrare le stesse Certe volte Quelle di Platone E dei cristiani Il fondamento è Che la persona Non è condannata Dal peccato originale E questo È un abisso Che è incolmabile Già al di là di questo Anche Platone È un tardo Cioè anche Platone Ha una repubblica Certe volte Qualcuno Viene utilizzato Platone Come precorsore O come vicino al cristianesimo Però La sua base C'è il cittadino C'è l'individuo C'è la persona E questa persona Non è marchiata Dal peccato Allora L'uomo è creato Di magia e somiglianza Di un Dio pazzo e cretino O l'uomo invece Diviene in sé Per sé Costruisce i suoi adottamenti Soggettivi Alla realtà in cui vive Paganesimo Paganesimo o politeismo Andiamo via le telefonate Sì Andiamo via le telefonate Non mi piacciono le telefonate Vabbè 049 700 700 049 700 838 Per chi vuole intervenire Fare delle domande E chiedere questo 049 700 700 049 049 700 838 Pronto Ecco qua Tu hai sentito il libro di Galasso E subito E' mio E' mio E' mio Vabbè Ti dico Io penso che Io devo andare in libreria Però è un libro interessante Insomma Perché sono passato Stamattina No Mino Guarda la Deifi Appunto No Guarda la Calasso L'altra settimana Dovremmo richiamare il comune amico Dovremmo richiamarlo Comunque Sì Beh Dopo Usiamo Dunque Klosowski Il bagno di Diana Sì Un bel libro Un bel libretto E' un bel libro 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 Tipo di Calasso Soprattutto appunto Il leggeretto è tutto Il leggeretto è tutto quanto Il libro Eh che bello Essere in pensione Vero? Non andare in fonderia Dunque dopo Vabbè Vedete Il bagno di Diana E' veramente Sul discorso dell'immagine Del rapporto Dell'immagine Con la persona E' soprattutto Il discorso Che è della discrezione Che fa la domanda Ma se gli dèi Non hanno bisogno Di nutrirsi Se hanno un corpo Perché sento il bisogno Ad esempio Di esporlo Di avere una sensibilità Perché piace E avere il rapporto Con l'uomo E questo rientra In quello che dice Calasso Sul discorso Della follia Che viene dalle ninfe Il potere Dell'immagine Della forma Del simulacro Che è una via La conoscenza Sì, sì, sì Comunque Glossoschia E poi c'è anche Il baffumetto Sì No, ma il bagno di Diana Io lo considero Un capolavoro Dal punto di vista Del politeismo Sì, infatti L'ho aspettato Un bel pezzo Perché quella È una lettura Che va calibrata Cioè non può essere Consigliata a casa No, è bene È logico Quello sottile Anche perché rappresenta Un varco Come rappresenta Ogni ninfe Rappresenta una via Ivano Quando ti presenti Dall'ibraio Digli Di sponsorizzare La nostra trasmissione Visto tutti i libri La conosce La conosce Sì, sì Dai Va bene Repubblica Sì L'ho vista Disfuggita Ma non ho tagliato Niente In Canada Approva i matrimoni Sì, sì, sì Anche in Canada Sono stati approvati E in Spagna C'è stata l'approvazione Del divorzio rapido In tre mesi Con la fotografia Qua di quattro Vecilli Qua con la maschera Con i cerotti rossi Per il non diritto All'attustione Ai bambini E gli omosessuali Allucinante Comunque L'ultima L'ultima spiaggia Esatto Dopo Il direttore Di famiglia cristiana Risponde a una Leatrizia omosessuale Sempre a stessa pagina E dice I gay Non si sentano Figli Di un dio minore Ecco le risposte Questa qua L'ultima L'ultima Nazione E beh Sì Comunque E' importante E' importante Che nel mondo Ci muovano Capito E' certo Dopo Il libro di Castaneda L'intervista a Carlo Castaneda Non so Lascia perdere Queste robe Prendi solo Quello che ha scritto Lui Guarda No 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 Beh ma Era l'unico Chi mancava Interviste Sono A me mancano tutti Quelli di Castaneda Sì Francesco Non ne ho mai detto No neanche uno Solo Lo sforzo massimo Le quarti di copertina Le quarti di copertina Eh beh ma sai E' così la vita Dopo Che vuoi fare La voce La tridentina La messa Tridentina Sarà un'ulteriore Ricchezza La messa In tre regioni Tri regionale Pazzesco Una cosa Fuori a te Va bene Ma poi niente Qua Da Vi parlate Saffo Comunque un libro Anche dei dei Comunque Lo trovare Saffo C'era una Creonte Ibi C'era Una quarantina Ti ho detto Voglio la persona Guarda Tu li vai Ma guarda In casa Adesso Intorno A miglia Su Che libri Dunque Fa conto E' qui Che non Viste La base Eh ma Anche io Comincio A avere problemi Di spazio Sai Su Fuori La testa Tira Lo scatolone Tira 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 Fuori Eh Abbiamo Contaminato Il mondo Quando ci sono Le casalinghe Che comprano Gli Neomerici Significa Che abbiamo Fatto colpo Gli Neomerici Ancora Da Arrivare Come C'è Edizione Burr Che Intascabile Guosta Niente Insomma Se Ne Mi Rive E Si Nota Dice Eh Si Nota Ah A proposso In direzione Ci sono Anche Ripubblicati Gli Di Giuliano Dalla Valla Editori Si Sono In Improsa Che Comunque Sono In Tu Mi No A Sole L'hanno Già Pubblicati Si L'hanno Già Pubblicati I Fratelli Medita Si 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 L'hanno Sono Tutte Ottime Traduzioni L'edizione Quella Dei Dioscoli Che Si Chiamano La Rinassa Degli Dei No Ma Tu Hai Presso Anche Quello Che C'era La 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 Ma Adesso Questo Poveraccio Non Facciamo Di Comprare Tutta La Libra Tranquillo Inni Giuliano Non So Il Titolo Esatto Anche Inni Giuliano Se C'è Inno Elio Saree Ed Altre Cosa Si Beh Di Ce Ne Vada Non Penso Guarda Bene Che Tu Hai Già Un Altro Libro Fatto Dalle Mediterrane Qualcosa Contiene Comunque C'ha Lini Dentro E Quello Di Melita Si 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 Esatto Quello Del Mediterraneo Non Lo So Al Tempo Si C'è Quello Del Mediterraneo All'aggiunta Quella Lettera Su Insegnanti Cristiani Ecco 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 Beh I consigli Librarie Sono sempre Utili Insomma Pronto Pronto Si Buongiorno Buongiorno Come Dino Ah Io Abbastanza Bene Penso Ah Sì Beh Anche Qui Si Senta Di Stare Bene Tu Non Stai Molto Bene Non Ho Tanto Ma Sono Caso Buona Tanto Per Vedere Che Tutti Io Ne Riva 400 300 500 Persone E Passa Paolo Poi Borsa Piene Vestigliana Va Bene E Lavora Nessuno E Dice Che Siamo Fortunati Che Riva Stai Gente A Lavorare Nel Piazio Paolo A Sì Eh Sì Sì Eh Sì Sì Eh Vabbè Andai Porta Pazienza Che Siete Peso La Vita Eh Sì 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 ok va bene grazie ciao 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 una volta sentivo una discussione che si affermava che il nostro pensiero si è formato attingendo da varie culture antiche soprattutto da radici ebraico grecche romane cristiane secondo voi dentro il cristianesimo esistono tra virgolette influenze pagane cioè ha preso di sana pianta Marco scusa da quanto sei che te ne ascolti dimmi da quanti anni ci ascolti no dimmi da quanti anni ci ascolti ci ascolti da quasi dieci anni ma è bello che ci ascolti assieme alla Dio Maria allora i cristiani riconoscono che nei loro riti hanno questi riti una derivazione un'altra domanda mi stai distruggendo giuro mi stai distruggendo adesso io volevo arrivare a questo ecco appunto dimmi dottorio se preghiamo in latino si io dico una preghiera in latino ma fa i tuoi eh dimmelo di farlo giuro no ma siccome adesso va col papa nuovo che abbiamo papa nuovo tu che hai paparanzi che ho io vuole che preghi in latino vuole che si vuole fare i tuoi perché dice che si raggiunge un'elevazione spirituale ma certamente ma guarda che se tu lo fai addirittura in antico sanscrito raggiungi un'elevazione spirituale ancora maggiore eh se poi tu svaniva elfica no ma in effetti anche se tu preghi in inglese se tu preghi in inglese raggiungi un'elevazione maggiore perché si è scoperto che conoscere lingue antiche favorisce lo sviluppo di apparati neuronali all'interno del cervello per cui se tu studi le lingue antiche o le lingue moderne comunque sviluppi te stesso però non sta a me dire da finire la preghiera in sanscrito diciamo che esiste una valenza per usare certe lingue ma voi Francesco voi i riti li fate ancora come li fate o vuoi cambiare? li facciamo ancora come li facciamo noi allora non siete a livello adesso non siamo a livello vero? cosa faremo schifo? non lo so ma se tu vedi che preghi noi non preghiamo i preghi non hanno preghiere non abbiamo preghiere no non abbiamo abbiamo evocazioni abbiamo affermazioni abbiamo invocazioni abbiamo inni abbiamo esaltazioni da fuori di testa ma non abbiamo preghiere va bene adesso io vedrò di prendermi i libri quel signore che vi telefona e che compra tutti i libri se me ne compra uno anche in latino con le preghiere no no credo che quel signore guarda ti assicuro che quel signore non ti comprerà mai un libro con le preghiere devo avvertirlo ma sì ciao va bene Mario ciao no beh sarebbe una risposta molto lunga sul discorso dell'uso di certe lingue effettivamente c'è poi un problema di come vengono recepite all'interno della cultura della persona mi vuole chiedere un'informazione parla dalla 5 sì ma c'è la trasmissione magia stragoneria paganesimo come? la trasmissione magia stragoneria paganesimo per cui se la interviene in trasmissione perché è già in diretta bene se no no avevo solo alcune informazioni per una cosa anche l'altra è privata ok in caso mai chiama dopo e datele do io dopo la trasmissione dai 049 700 777 dopo le 16 e 30 ok non c'è un problema chiama dopo dai sì no perché appunto sono cose private giusto sì sono un guido ciao dimmi vorremmo chiedervi nel codice penale attuale esiste il reato di plagio? no il reato di codice di plagio è stato rimosso depennato dalla corte costituzionale nel 1981 quando la corte costituzionale fu chiamata a decidere sulla relazione fra un prete non credo che fosse cattolico comunque non ha importanza e dei suoi allievi la corte costituzionale diminuò il reato di plagio proprio perché non si poteva stabilire qual era il livello di dipendenza dipendenza forzata fra il prete e gli allievi e quel reato divenne famoso il fatto che fu eliminato quando c'è stato un processo a un altro a un professore allora venne manifestato che fu eliminato quel reato oggi come oggi il reato di plagio se viene fatto devono essere rincati tutti quegli elementi forzati di privazione della libertà violenti che determinano l'azione di plagio cioè non può essere il plagio in se stesso se no anche due innamorati si plagiano l'allievo e il maestro c'è una forma di dipendenza cioè non si può accettare una cosa del genere comunque in questo momento non esiste quello che è più vicino è la condizione di schiavitù quello che si avvicina di più quindi è una buona iniziativa che cerchino di ripristinare e se lo ripristino all'interno delle indicazioni che ha dato la corte costituzionale diventa una cosa corretta da tronde dopo ci pensa la corte costituzionale eliminare la legge o meno se non è corretta per cui non è che ci si preoccupa da questo punto di vista per cui anche certi soprusi commessi nei conventi si esatto dove le persone vengono ridotte esatto e infatti esatto e dovrebbero insomma gli autori avrebbero la polizia avrebbero la possibilità di intervenire mediante questo reato anche all'interno dei conventi e dei seminari e anche all'interno dei gruppi naturalmente delle persone che fanno queste cose è una bella cosa per me sì per altri vedo si mettono le mani nei capelli no è un'altra che a suo tempo sia stato abolito il reato di plagio per non essere costretto il giudice a mettere in galera tutti no no fu abolito perché era assolutamente generica la formulazione essendo generica questo reato poteva essere attribuito arbitrariamente anche a persone che magari avevano un rapporto di semplice dipendenza anche sessuale per esempio anche di amore o anche di rapporto affettivo specialmente fra omosessuali magari si vedeva con un certo modo con un certo atteggiamento e allora invece adesso la magistratura cioè la corte costituzionale richiede l'elenco delle azioni che portano al plagiare cioè per darti un esempio cioè l'omicidio viene impunito dal codice penale perché si sa cosa è l'omicidio e non richiedono che il plagio venga definito nella stessa regione ciao è abbastanza importante la cosa perché le persone non riescono a comprendere la differenza fra definire un reato e un reato non definito pronto? ciao ciao vorrei sapere la vostra opinione su una cosa una riflessione che ho fatto allora sono diversi anni ma comunque soprattutto le ultime generazioni che si stanno allontanando dalla chiesa cattolica diciamo nel senso allontanando in senso sia comportamentale e anche come dando dei giudizi seri sia sulla storia perché adesso cominciamo a leggere libri di storia c'è internet comincia a documentarti se vuoi hai mille sì cose bene però e poi commenti positivi su dei film che hanno fatto vedere la realtà preti che schifo nessuno vuole andare in cesa non si è in cesa eccetera però muore il papa miliardi di persone a Roma miliardi di persone che si chiescono che si piangono che sono chiese stracolme io mi domando sì la qualità delle persone cioè la qualità delle persone ma non è che devi ma non è che devi chiederti questo no non è questo cioè devi pensare che ogni volta che avviene un fatto un avvenimento c'è la concentrazione dell'attenzione dei media o anche la tua o anche la nostra su ciò che porta all'avvenimento mi faccio un esempio quando mora il papa le telecamere sono tutte in piazza San Pietro tutte quante in funzione di una certa notizia per cui tutte le immagini che tu trovi sono in funzione di quella notizia chiaramente non vanno a intervistare quelli che dicono il papa non me ne frega niente perché non fa notizia cioè in quel momento viene focalizzata l'attenzione per cui se tu vedi la piazza San Pietro piena possono essere diecimila centomila duecentomila persone però là è focalizzata l'attenzione capisci non è che le persone non è che cambiano idea prima della parte dopo dall'altra semplicemente in un certo momento fanno massa in un certo modo e in un altro momento fanno massa in un altro modo sì sì però a me è l'idea che ci sia tanta tanta ipocrisia nel senso io assolutamente in chiesa non ci vado mai schifo preti marsi suore pedofi eccetera cioè basterebbe solamente il concetto della pedofilia per farmi vomitare solo quando guardo San Pietro voda appena presente c'è gente che è partita ha fatto decine di chilometri tornare a San Pietro d'accordo cosa fare a salutare al fine un corpo un Papa che non ha saputo in tutta la sua santità eccetera non so come minimo come strumento minimo che possa avere scomunicare i piedi pedofili minimo minimo ma non può a parte il fatto che ti dico che non poteva se no condannava il suo Gesù e quando la Chiesa Cattolica gli fa cadere il Gesù chiaramente crolla tutta la Chiesa Cattolica per cui obiettivamente lui non poteva fare certo la persona si fa come me vomita vomita e questa è la presa di coscienza delle persone avviene progressivamente per salti qualitativi per scopi intuitivi non è che avviene perché qualcuno gli dice la verità in fondo tu pensa quanto è profonda una credenza quanto psicologicamente le persone siano coinvolte nelle cose certo ma guarda che ma guarda ma guarda che questa cosa che noi ormai diciamo da 10 anni per radio quando 15 anni vennero denunciate alla polizia degli Stati Uniti i poliziotti prendevano in giro le vittime poi dicevano che non era vero cioè devi tenere presente le prime vittime che hanno denunciato gli abusi sono state vetuperate insultate denigrate cioè e sono solo da 15 anni adesso è facile anche io quando 10 anni fa qui per radio dicevo guardate che questa è la situazione se voi seguite un'ideologia religiosa l'ideologia vi porta a questo sai noi quanto ci hanno preso per i fondelli che dicevano che non era vero quello che dicevamo e dopo gli anni passavano e i processi arrivavano e avevamo ragione e non cambia niente per a questo no non è che non cambia si sviluppa si sviluppa nella coscienza delle persone ciò che sta avvenendo in Spagna in Francia in Canada nella società civile è chiaro che il potere ha sempre bisogno di avere una sua riaffermazione e Ciampi non darà mai un calcio nei fondelli a Ratzinger capisci perché è un altro capo di Stato perché esiste un'etichetta perché esiste delle modalità di comportamento però sta di fatto che nella coscienza delle persone le cose crescono ed è questa la magia cioè proprio la trasformazione intima delle persone per cui è vero certe persone sono colpite immediatamente reagiscono immediatamente altre sono colpite in maniera molto più lenta però è importante che ciò avvenga altri hanno degli interessi certo miliardi su tutti i fronti hanno degli interessi certamente benissimo chiudere un occhio finché il figlio non è loro chiaramente sì ovvio va bene senti devo buttare giù per che lo chiude grazie ciao ciao chiudiamo più la trasmissione Magia e Stragonaria adesso con l'iscio avrete il vise e poi alle ore 19 riprenderò la trasmissione ricontinuerò il discorso sull'Upanissadre in relazione al Paganesimo bene vi ricordo che sono Claudio Simeoni mi indirizzo a piazzare il parmesano e l'automarghera l'indirizzo dell'istituto per il terreno di politica e il sti casalpastaccio 1 3 malostica vicenza ciao ciao a tutti sì